Oltre un milione di euro sequestrati preventivamente a tre società baresi ritenute responsabili di aver effettuato manovre speculative sulla vendita di dispositivi di protezione individuali come le mascherine nei confronti di diverse aziende sanitarie pugliesi, le indagini condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziera di Bari coordinati dalla Procura del Capoluogo hanno permesso di verificare concretamente l'attività speculativa posta in essere durante questa emergenza dalle aziende a cui è rivolto il provvedimento, in particolare essendo ormai i DPI beni di prima necessità le tre società baresi facevano in cetta sul mercato dei dispositivi protettivi per poi rivenderli con ricarichi economici sempre più crescenti nel corso dei diversi passaggi della filiera commerciale alla fine il prezzo era divenuto esageratamente superiore a quello ordinario praticato prima dell'emergenza e del tutto svincolato da una fisiologica variabile domanda offerta tenuto conto che i ricarichi applicati quasi mai inferiori al 100% hanno registrato picchi sino al 4.100% l'operazione chiamata dalle fiamme gialle ad ogni costo ha consentito di acclarare come una delle società coinvolte avesse acquistato nell'ottobre del 2019 da un fornitore cinese, straneo però alle indagini oltre 127.000 mascherina filtranti FFP3 al costo unitario comprensivo dei costi accessori di 0,36 euro nello scorso mese di marzo quando la ricerca dei DPI era diventata davvero incessante le stesse mascherine sono state rivendute ad un'altra società fornitrice di aziende sanitarie pugliesi al prezzo di oltre 12 euro cada una quest'ultima società baresi ha infine ceduto le mascherine filtranti agli enti sanitari a prezzi oscillanti tra i 18 e i 20 euro al prezzo IVA esclusa la gravità della condotta esplicitata dai finanziari e dalla procura in realtà riguarda anche l'abuso da parte delle società in qualità di prestatori d'opera necessari in questo modo infatti avrebbero dolosamente profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare o quantomeno rendere alquanto difficoltosa la protezione sanitaria di pazienti, medici, infermieri, operatori della sicurezza e di ogni altra categoria particolarmente esposta al rischio di contagio grazie a tutti